e guardate quello che c'è ora quindi ho fatto le patate per fare il gato e poi ho fatto il broccolo prima lessato poi ho dato una leggera soffritta e questo invece è quello affogato come vedete sto replicando perché il broccolo è buonissimo in tutti i modi ve l'ho detto allora ora mi sto andando a passare lo straccio in bagno perché ho fatto il bagno e poi devo passarlo in cucina e poi devo lavorare devo lavare tutto questo ambaradan che ho sporcato per cucinare queste cose mentre 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 voglio vedere lo chef che cosa sta facendo bene che devi stare dentro dentro sì poi che vi faccio vedere va bene vi faccio vedere che un po il tempo è migliorato poco fa c'era pure un accenno di sole ma proprio poco poco per ora sembra che intanto il mare si è calmato un poco il vento si è calmato pure e l'aria poi non è più così fredda come era stamattina qui ci sono le piantine qui ho messo le bocche di leone i ciclamini questo ciclamino aveva bisogno d'acqua io l'ho data vediamo se si tira un po su guardate come si è staccata questa striscia di erba finta per il vento io mi sono ascoltata un pochino di canzoni di sanremo messo su replay la prima serata ascoltate diciamo non cambio idea mi piacciono sempre moltissimo mi piace quella di rama che secondo me meriterebbe un posto nel podio vediamo stasera